ben ritrovati ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video allora quello che avete appena ascoltato sono le dichiarazioni nel pre partita di del nostro allenatore Tiago Motta insieme a Diretta Leotta insieme a Vieri insieme a Ferrara punto io sto registrando nel pre gara non so com'è andata la partita perché questo video uscirà appunto subito dopo il fine della partita vi chiedo un attimo di pazienza per poter poi registrare quelle che sono le dichiarazioni post gara quello che saranno ovviamente i miei commenti al riguardo spero che abbiate comunque apprezzato nel frattempo e ci vediamo fra poco fino alla fine sempre solo e nonostante tutto Forza Juve